Buonasera ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Matenti di Roto e oggi siamo qui In questo nuovissimo episodio di Just Coast 3 Allora ragazzi siamo qui Con vabbè un po' di malattia Sempre E guardate un poco quante zone Mi sono conquistato Nel frattempo in pratica Che stavo senza far nulla Pure Cimaleon Ci siamo conquistati tutti insieme Poi ci sta Cowboy Esplosivo Che dovremmo andarla a fare a Cimaleon Però per ora direi di conquistarci Tutto Sirocco Sud E di andare ora Da questa parte Qui Che in pratica è una parte Un po' difficilotta Chiamiamola così E poi ci dovrebbe essere Non credo che sia pure Questa un'altra parte dove dovremmo Andare Forse questa ma ne dubito Di questa qui Però una sicura Ma proprio sicura sicura È questa qui Che si vede all'aria Proprio di un grande Di un grandissimo Insediamento Porto Un grandissimo porto Quindi noi ora Ci andiamo a conquistare Quest'altra zona Così ci divertiamo un po' Dai Ci divertiamo un poco Ecco quindi Praticamente Perfetto Tra l'altro Per chi abbia Non scelto il toro Come simbolo Chi lo sa perché Forse perché Rappresenta che Siamo di cornuti Chi lo sa Rappresenta la forza Del toro Non so Ci si fanno Ste cose Nel video Di giochi Cioè Aspettate però Dovrei prendere Un momento Di spinta Uno Due Benissimo Così si fa Ragazzi Ecco qui Così vai Perché faccio queste cose Un po' random Oddio Ok vai Vai sopra Così Non ci stanchiamo mai Ovviamente Di salire Opla Oddio Aia Ok questa Ah c'era Vigilator Nord Che era No Dov'era Vigilator Dov'era Vigilator Oddio No Ci doveva essere Un Vigilator Oh mio Dio Portovena Le Tutor Viselectra No me lo ricordo Un Vigilator Ma Vabbè Questo è Vigilator Sud Cos'è Cosa Questo è Vigilator Sud Vabbè Tra l'altro Sirocco Nord È stata Conquistata Però Esagerata Però Sirocco Sud È ancora Rosso E non mi piace Vedere Il rosso Allora Una cosa che voglio andare a fare Per fare Tutto molto più velocemente È non andare Di persona Ovvero Se dobbiamo conquistarci Questa zona Ci dobbiamo andare Di elicottero Il problema che ci sono i missili sem che rompono sempre un po' le palle Però Per ora ci incominciamo già Uh Cazzo Neanche la soddisfazione di salire sopra l'elicottero Mi avete fatto avere C'è quella sensazione bella di volare Di sparare con la mitraglia No Niente Ah mannaccia alla misera Mannaccia alla misera Raga Io non ce la faccio più Con sti stronzi Ok Allora Andremo alla vecchia maniera A piedi Cioè Di corpo Di cazzo Cioè Come ci vogliamo andare Però di cazzo Secondo me è meglio Perché Non ci teniamo grande Noi quindi Eh Ci possiamo vantare tantissimo Oh lì Ovviamente Voglio fare l'entrata a state E poi dopo si suggerisce Sempre Sempre Così Vedete Ecco Questa è grande Vai Per bene Spero che non ci siano Insomma Tutti Spero che non ci sia Beh dai Entra in questo Fottuto veicolo Vai Via Vai via Punto e basta Vai via di corsa Ok Non ci sono I missili Mamma mia Che bellezza E se ci sono Ah Sembrava troppo facile Troppo facile Vabbè Andiamo così Andiamo così Raga Andiamo così Manualmente Però Dall'alto E poi Cioè Dopo dovremmo Sicuramente Dichiedere il supporto Di un elicottero Che È il semplice motivo Che come facciamo A distruggere quelle robe Senza un elicottero Con i lanciarazzi E ce ne servono 70.000 Di lanciarazzi Secondo me Allora Allora Andiamo all'entrata Ci dovrebbero essere Delle armi Sempre Dove è il pallino bianco C'è il pallino bianco Com'è Ci si entra Qua dentro Non c'è neanche Il pallino bianco Delle armi Nei idioti Che mi fate Va bene Ok Non vorrei morire Adiota Just cause 3 Sta diventando Difficile Un po' Difficile Poco Pochettino Poco E non mi va bene Non Mi Va Bene Mi va male Sta cosa mi va male Mi sta male Cioè Non ci sta Non ci sta Fa proprio schifo Schifo Just cause 3 Deve essere il gioco facile Perché noi non siamo Pro player Boh Vai Sto scherzando Cioè Siamo pro player Però Quando vogliamo fare I I pro player Quando vogliamo fare Siamo pro player Solamente lì Ok Ok ragazzi, io direi di andare a fare la missione, e Vigilator Sud ce la lasciamo un'altra volta, però non so, voglio avere quel sapore in bocca di dire, ah fanculo, almeno un territorio, tutto il territorio me lo sono conquistato, porca puttana, cioè mi sono conquistato un'intera isola, poi vengo qui e non riesco a conquistarlo. Allora, dobbiamo cambiare tattiche, allora, lì di andare di così proprio a piedi, le scudiamo subito, e andiamo di tutara all'are, oh attenzione ma lì c'è qualcosa, vabbè, quasi mai qui c'è qualcosa. Allora, da qui riesco a colpirle? Allora vediamo se riusciamo a colpirle. Vai! Se ne dovrebbe cadere tutta? No? Vai, proviamo così? Sì, dobbiamo spadarla proprio lì, in quel punto lì dove stanno tutti i ferri. Benissimo, abbiamo scoperto il nuovo metodo per distruggere le torri radar in un fratto di secondo. Ma quella antenna gigante io non la sopporto proprio, quella è proprio quella che odio di più. Cosa cazzo là sta torre? Cosa tiene di diverso? Oddio. Nooo, eh sì, andiamo a morire a stronzi. Amore a stronzi? Oh! Come? Come fate a tirarvi sto coso che pesa 70.000? Non dico uno, due chili, ok, due chili ce la faccio pure io, però porca miseria. Cioè, tre chili ce la fa pure materni, ma 70.000? Bah, non lo so. Non c'è qualcosa, là c'è qualcosa, mi sto facendo. Sì, c'era là una cosettina, c'era. Ok, ora la vediamo da più da vicino. Che cosa cazzo sono queste cose? Vediamo così. Vale, ci stanno i carburanti volanti? Da dove escono queste cose? Oddio, questa è una torre più difficile, raga. Madonna. Una delle più complicate, più complesse. Fatta male. Vai. Ok, ma quante diavolo di robe ci sono qui. Via, via, via. Oh! No, e dai, non facciamo i fenni, non facciamo i fenni. Non facciamo i fenni. Inforzi nemici. Oh, sì, bravissimo elicottero, bravo elicottero, bravo. Vai. Vai, vai, entraci, entraci subito. Entraci subito. Alziamo la quota, alziamo la quota. Alziamo la quota. Perché se la alziamo può darsi che abbiamo una speranza. Vai, 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 un panino che c'è lì su, un panino, un panino. Ma in una maniera abbiamo distrutto qualcosa, no? No, neanche il caso. Vai, 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 vai. Premi! Oddio, che fuori distrutto. Oddio, ma dov'è l'altro elicottero? Dov'è l'elicottero? No, non voglio sapere dove siamo l'elicottero in questo momento. Dio. Dov'era? Anzi, dov'è? Io voglio il modo rapido per distruggere sta merda. Ah, dove sei? T'ho visto ora. Eh, ora non scappi più, ora non mi scappi mai. Vai. Ora non mi scappi. Quando io vengo qua sopra, voglio dominare. Che capisci te? Vai, 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 vai. Boom, vai! Missili, così si distrugge, ho capito? Bam! Parabotate, salite, tellino, bam! Vai, vai! Non ci sono neanche i SEM, vai! Stiamoci zitti, perché prima abbiamo detto che non ci sono i SEM e ci sono spuntati i SEM addosso. Quindi stiamoci zitti con calma. Ok? Benissimo. Per favore. Ok, grazie. L'altra torre radar si offre? Sì, sì, si offre. Bombardamenti supremi? No. Io voglio stelicottero, avete capito? Vai, 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 crepa, 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 crepa. Boom! Mamma mia! Mamma mia! Ok, lì invece ci sono delle robe. Le robe molto importanti, che ci servono assai. Vai, 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 vai. Vai così? Vai, c'è una parabolica distrutta. Sceniamo di più di quota, dai. E anche ci sono dei SEM però. Non vi do se nemmeno. Io vuol dire che non ci sono, ragazzi. Possiamo scendere di più da. Ma facciamo sta cassata. Sta cassata. Sì. Sta cassata. Sono poco con troppi d'ultima qualità di un po' ci. Ok, queste sono andate. Non vedi l'imforzo in arrivo. No, 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 io me ne vado su, io me ne vado su, io me ne vado su. Guarda che quando la chiappi più l'elicottero che ti spara i missili, da. Cioè questo è unico, questo, this is unico pezzo. Benissimo. Dove devo andare, per dove devo andare? E vabbè. Raga, per questo episodio è tutto. Di Just Goes 3. Cioè, al limite ci manca un minuto e 34. Cioè, vediamo un po'. No, no, no. Quota, 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 quota. Ok, credo che per questo episodio sia tutto. Oh. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio. Bella ragazzi.